Un danno erariale di circa 500.000 euro per uso in debito di fondi pubblici. È così che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre all'ente autonomo Gifon Experience nella persona del presidente protempore ed improprio e del direttore generale di altri due soggetti. In particolare, dopo indagini condotte, risulta un indebito uso di finanziamenti pubblici di fonte comunitarie gestiti dalla regione Campania per l'esecuzione del servizio di movimentazione di ospiti e giurati nelle edizioni del Festival Cinematografico dal 2016 al 2022 mediante certificazioni di regolare esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto risultati non conformi. Il servizio in questione infatti è stato aggiudicato in quegli anni alla medesima ditta che all'epoca non disponeva né di un parco mezzi né di un numero adeguato di dipendenti per gestire il servizio appaltato. Per alcune annualità, inoltre, il servizio è risultato garantito con autovetture messe a disposizione gratuitamente dagli sponsor e non dalla ditta affidataria. Il danno segnalato deriva anche da spese sostenute dall'ente per il servizio di accompagnamento attraverso pullman che non hanno svolto il servizio perché non erano nella disponibilità della società incaricata bensì intestate ad altri soggetti o di tipologia non idonea. Grazie a tutti.